Ieri Mr. Bianco ha dato l'ultimo saluto al giovane Samuele Pappalard del 15enne che si è lanciato da un viadotto tra San Giovanni Galerme e Mr. Bianco, proprio a poche centinaia di metri da casa sua. Un saluto commosso con l'accenno di un suono di tromba che ha accompagnato il feretro al termine della funzione religiosa. Gremita la chiesa di Sant'Angela Merici, c'era tutta la città e i compagni di Samuele, tutti lacrime, a piangere una morte assurda. Ad ufficiare la celebrazione l'arcivescovo di Catania, Salvatore Cristina, che durante l'omelia ha lanciato un messaggio. Bisogna essere forti e superare i momenti di smarrimento e noi adulti dobbiamo sempre essere più consapevoli della responsabilità che abbiamo. Durante tutta la giornata le bandiere del comune sono state poste a mezz'asta a ricordare il lutto cittadino e il cordoglio alla famiglia.